Autoradio Plug & Play per Citroen C1. L'autoradio è dotato di Apple CarPlay, Android Auto, questa è l'applicazione per collegarlo. App Play Store, con cui potete scaricare tutte le app, esattamente come se fosse un cellulare. Il prodotto è fluido nonostante sia ancora con la sua pellicola originale, quindi poi questo quando uno lo monta lo toglie. Possibilità di cambiare i loghi, ce ne stanno un botto. A differenza di altri autoradio, che praticamente per sbloccare tutti questi temi devono pagare circa 25€, qui i temi vengono già sbloccati da me, ok? Questi sono i temi già salvati, se ne volete altri potete per esempio questo prendete, lo scaricate. In questo caso sono già pronti all'uso, altrimenti bisogna pagarli. Questo pure è bello. Ok, in questo caso esendo per la Citroen io l'ho già impostato col suo logo, con la macchinetta, altrimenti tenete premuto e cambiate marca, ok? Qui potete visualizzare la musica che ascoltate, la libreria musicale, che può essere Spotify, YouTube o quant'altro. Bluetooth, la radio, se accendete la radio in questo caso non funziona perché l'antenna non è accesa. Qui vedrete la radio, ok? Poi applicazioni, ripeto, fluidissime, impostazione vettura, impostazioni auto, potete vedere tutte le impostazioni dell'auto, in questo caso non le vedete perché non è collegata all'auto e quindi non le potete vedere. Impostazione, impostazione pulsante al volante, comandi al volante, potete cambiare qui come volete i comandi del volante, equalizzatore DSP, eccolo qui, potete impostare l'audio come volete. Ok, questi tasti qui sono cambiabili, ci sta proprio l'applicazione per cambiarli, ok? Ok, usciamo, mettiamo il tema predefinito che sarebbe questo da usare. Qui ovviamente vedrete i chilometri di percorrenza, il navigatore, radio, perché ho messo la radio per ultimo, altrimenti se aprite per esempio Spotify, però Spotify non l'ho acceso quindi non si vedrà. Proviamo con YouTube, ok, facciamo partire un video su YouTube. Il dispositivo è molto veloce, adesso è la prima connessione quindi ci mette un po' di più, però se fate partire un video, per esempio questo, parte subito. Ok, usciamo. Poi tramite questa applicazione, top all voice, avete la possibilità di controllare il dispositivo con la voce, quindi comandi vocali. Ecco qui il prodotto, specifico per C1, non dovete fare altro che togliere la vostra vecchia autoradio e montare questa. Questo prodotto fa autoradio specifici anche per altre auto, quindi basta che mi contattate e vi do le informazioni.